Grazie a tutti Oggi da dove abbiamo lasciato la volta scorsa, proseguendo e completando il discorso sul primo passo, l'abbiamo chiamato così, che si compie nel regno del divinvolere all'interno del fiat santificante e che consiste nella acquisizione delle conoscenze, quindi di ciò che Gesù ha voluto esplicitare, approfondire, spiegare e in un certo qual modo rivelarla. Sul mistero della divina volontà, che ovviamente era già ampiamente stato conosciuto e rivelato attraverso la Sagra Scrittura ed anche attraverso la vita della Chiesa, perché sappiamo che la divina volontà è la quintessenza della santità, ma che è stato arricchito di formulazioni e contenute ulteriori da parte del Signore. Quindi siamo dentro il mondo del cosiddetto fiat santificante, la terza parte della manifestazione del regno della volontà divina, il fiat volontà tua, sicuti in cielo e in terra, quindi preghiera che Gesù insegnò con il Padre nostro, ma che ancora tende il suo perfetto compimento. Alla volta scorsa stavamo leggendo uno splendido passo del 22 ottobre del 1926 degli scritti di Luisa e ci siamo fermati a un certo punto, riproponendoci di completare la lettura oggi e poi proseguire. L'ho scritto aperto proprio per l'importanza, specialmente questa seconda parte, delle conoscenze, delle verità sul divinvolere. Lascio la parola al nostro Signore in persona, che è molto più eloquente evidentemente della mia, soltanto riprendendo qualche espressione poi magari per evidenziare, sottolineare o brevemente commentare. Riparto ovviamente da qualche capoverso prima, Gesù sta parlando in questo contesto della Madonna e del fiat. Allora, alcuni potranno dire, come tanti portenti che manifesta il benedetto Gesù, il benedetto Gesù a questa creatura di questo regno del fiat divino, i beni che porterà sorpasseranno creazione e redenzione, anzi saranno corona dell'una e dell'altra. Madonna del tanto bene, nessuna cosa miracolosa nell'esterno si vede in lei, come conferma del gran bene di questo regno dell'eterno fiat, mentre gli altri santi, senza il portento di questo gran bene, hanno fatto miracolo ad ogni passo. E Gesù risponde, ma se si volgono indietro a considerare la mia cara mamma, la più santa di tutte le creature, il gran bene che racchiusa in sé e che portò alle creature, non c'è chi può paragonarsi a lei. Fece il gran miracolo di concepire in sé il verbo divino ed il portento di dare un Dio a ciascuna creatura. E dinanzi a questo prodigio, né mai visto, né sentito di poter dare l'eterno verbo alle creature, tutti gli altri miracoli messi insieme sono piccole fiammelle dinanzi al sole. Ora, chi deve fare il più? Non è necessario che faccia il meno. Così, dinanzi al miracolo del regno della mia volontà, ripristinato in mezzo alle creature, tutti gli altri miracoli saranno piccole fiammelle innanzi al gran sole del mio volere. Ogni detto, verità e manifestazione su di esso è un miracolo che è uscito dalla mia volontà come preservativo di ogni male e come legare le creature ad un bene infinito, ad una gloria più grande, ad una nuova bellezza tutta levina. Mi fermo per un primo commento a queste ultime espressioni che abbiamo detto riprendono da dove abbiamo concluso la volta scorsa. Il ragionamento che Luisa sta prospettando e che Gesù sta risolvendo è questo. Diceva, scusa un attimo, ma tu dici che questo regno del Fiat divino racchiude grandissimi portenti, prodigi, miracoli di grazia, la santità delle santità, è la bomba atomica spirituale più grande che esista. Ma la vita di questa depositaria, di queste rivelazioni, guardarla dal di fuori, è una vitarella, insomma, che ha fatto. Se ne è stata appena vita dentro un letto sconosciuta, ignorata da tutti e da tutti, con delle cose strane, di maniera mezza paralizzata, impietrita. E poi, quindi, dice, tutto questo grande, questa esplosione, dice, dove stanno? Cioè, mica una Sant'Antonio da Padova, insomma, che Sant'Antonio da Padova ha fatto un esplodio, insomma, continuo nella sua vita. No, mica un San Pio da Pietra del Cina, insomma, che c'è alle stigma delle cose, quindi tutte queste... E Gesù dice, amico, attenzione, così ci va anche capire un'altra cosa molto importante, che prima la capiamo e meglio è, perché il regno del divino volere, e questo è una delle cose che a me personalmente, mi si perdona, insomma, mi si passi la battuta, me lo fa stare particolarmente simpatico, rifugge da qualunque appariscenza esteriore. Come vedremo, adesso mano a mano che ci addentriamo al suo interno, Il regno del divino volere è un regno tutto interiore, cioè non traspare nulla di eclatante all'esterno, se non, come Gesù stesso disse della sua mamma, una grande virtù che comincia ad essere percepibile ad onta del tentativo della persona di tenerla nascosta. Le virtù sono tali quando non vengono ostentate, ma quando si tengono nascoste. Però inevitabilmente alcune virtù appaiono evidenti anche all'esterno, cioè se io mi trasformo in una persona amabile, affabile, dolce, piena di carità, piena di misericordia, piena di carbone, trattare le persone, pacifica, mite, tranquilla, specialmente se una persona magari del prima era l'opposto, questo non può passare nascosto, capite? Per quanto uno cerchi di non ostentare le proprie virtù, quando sta in pubblico se c'ha la virtù si comporta così, se non si comporta così vuol dire che c'ha i vizi. E quindi anche se qualcuno magari non ci farà caso, oppure qualcun altro lo attribuirà, vabbè è diventato più tranquillo, ha cambiato carattere, senza farci troppo caso, queste cose si vedono, ma il resto non si vede nulla. E Gesù rimanda, dice, non abbiate questi criteri di valutazione, circa come dire la santità di un fenomeno, quindi il grado di pubblicità, ecco, perché? E rimanda alla Madonna, cioè, allora noi dobbiamo pensare, ma rimanda alla Madonna, rimanda anche l'esperienza, cioè la nascita di Gesù, allora l'annunciazione di Gesù, chi l'ha conosciuta? Vediamo, cioè, noi la conosciamo dai Vangeli, ma quando l'ascangelo Gabriele è sceso dal cielo a dire alla Madonna, in un colloquio a tu per tu, guarda, ti saluto piena di grazia, guarda che da te deve nascere il figlio di Dio. La Madonna ha detto Fiat Miki secondo un verbo untum, scusate, c'era qualcuno lì? E il giorno dopo è uscita la prima pagina su qualche giornale, oppure è uscito il post su Facebook? Il verbo si è fatto carne, mi piace? Assolutamente no. Chi sapeva una cosa di questo? Oh ma vici, scusate ragazzi, ma ci stiamo rendendo conto di cosa è successo quel giorno, vedete come sono le opere di Dio? Non sapeva nulla nessuno, e per quanto tempo non ha saputo niente nessuno? Adesso tra poco comincerà l'Avvento e poi il Natale, no? Chi mi conosce sa che io mi sto già agghindando e rivestendo di gioia, perché per me è il tempo in assoluto più bello dell'anno, quindi qualunque cosa succeda, ecco, rovinarsi il tempo di Avvento e di Natale per me è quasi impossibile, no? Ma a me è una delle cose che fa tanta devozione del Santo Natale, vabbè, lasciamo perdere la concezione, no? Quindi l'annunciazione. E la nascita di Gesù? La nascita di Gesù, ma chi la conosceva? Oltre alla Madonna c'era San Giuseppe, finito, d'accordo? Cioè San Giuseppe guardate che c'era perché ci doveva stare per forza, perché a un certo punto era andata via vicina, se no non lo sapeva manco San Giuseppe, capite? La nascita di Dio sulla Terra non la sapeva nessuno. Chi sono stati gli unici che l'hanno saputo? Quattro poveri pastori, perché sono andati a dirgli agli angeli, quindi persone che erano considerate all'epoca meno di NN, capite? Ahima, gli ultimi, i più insignificanti esseri del pianeta Terra. E quindi che vogliamo fare? Quali miracoli, quale trombe ha suonato il Figlio di Dio per venire sulla Terra? Capito? Quali? Nessuna. Poi l'ha fatta un'altra, nostro Signore, che addirittura l'ha fatta tutta avanti a Napoli, dicono, umma, umma. La sapeva niente nessuno. La più grande di tutti. La risurrezione. Scusate. Allora, l'annunciazione lo sapeva soltanto la Madonna. E basta. La nascita la sapeva la Madonna e San Giuseppe, giusto? La risurrezione? Chi la sapeva? Nessuno. La risurrezione non l'ha vista nessuno. Capito? Nessuno. Nessuno. È uscito ed è apparso, ma il fatto della risurrezione non lo ha visto nessuno. Capito? Quindi, come sono le opere di Dio? Punto interrogativo. Cioè, guardate che, a mio avviso, i nostri tempi, capito, anche qui adesso stiamo facendo ragatechesi, in diretta radio, in diretta Facebook, poi facciamo il video, tutte queste cose qui. Io mi vergogno di un po' a dirlo. Ma questo è proprio l'anti... Mi si capisca un attimo il senso, no? Che sto facendo una battuta. È l'antidivinità per antonomasia, d'accordo? Perché proprio Dio ne proprio fa. Perché lo fa proprio nel più assoluto segreto, capito? Senza nessun tipo di riflettore. Poi ci ha messo in croce a noi pori preti, che dobbiamo parlare di queste cose, quindi qualcuno ci deve stare a sentire, d'accordo? Ma lui, quando fa queste cose, nel più assoluto silenzio. Cioè questa dimensione dell'agire di Dio la dobbiamo riscoprire. Le cose più grandi, ecco perché io esorto, esorto tutti quanti, d'accordo? Penso che vedendo anche un pochino il mio modo di fare, il mio stile, che mi è stato anche scritto tramite mail, e che qualcuno lo capisce, che è apprezzato. Noi oggi viviamo in un tempo dove ogni minimo evento riceve una risonanza mediatica spaventosa, d'accordo? Qualunque sia la sua portata, capite? Difficile oggi fare il vescovo, difficile oggi fare il cardinale, difficile oggi fare il papa, difficile fare il capo di stato, il capo di governo, perché la minima cosa che tu fai, dopo tre secondi c'è subito il tweet o il post di Facebook. Tra l'altro post di Facebook e tweet che apre un gantale pespaio di cose che non finiscono più e succede il finimondo in mezz'ora. Allora, questa prassi è proprio antidivina, a mio modo, questo, idee mie personali, non c'è tra niente la divinità, non c'è tra niente il magistrato della Chiesa, no? Ma da quel poco che la mia limitata capocetta capisce, anche vedendo queste cose, è zero, eh? Sapete dov'è che si compiono le opere più grandi e quelle che tengono sulle spalle il mondo? Oltre che presso ogni altare è anche il più sperduto della più remota popolazione del mondo. Se ci sta un prete con un po' di fede che alza un ostio, un calice, già quella è la salvezza dell'umanità. Anche se celebra la messa con due occhiette o peggio la celebra da solo, d'accordo? Peggio poi, se è peggio o meglio, questo tanto dimostrare. Comunque, senza che se lo vira nessuno, d'accordo? Un prete che sta celebrando una messa sta tenendo sulle spalle il mondo, anche se celebra in cappella privata, che non lo vede nessuno. Io a volte mi sono anche trovato un pochettino, non so, a colloquio con alcuni confrateri, dice ma a me non mi piace tanto celebrare la messa, cioè la messa senza comunità per me non c'ha significato. Io non sono mica a fare pegnate d'accordo, cioè io se me capita di celebrare la messa da solo, ma come non c'ha significato? Anzi, ogni tanto sono tutto contento che me ne sto io, che domine Dio e me ne celebro con calma, con tranquillità, quindi la si può vivere anche con un momento, come dire, di preghiera più intensa, personale, perché la messa è un atto di nostro Signore Gesù Cristo, non dipende né dal prete né dalla comunità, questo sia ben chiaro, d'accordo? Non andiamo a fare cose strane e bislacche. Le cose più grandi accadono, a mio modestissimo avviso, sono monasteri di clausura degni di questo nome, dove ci sono delle anime che le chiamano i parafulmine dell'umanità, che nessuno sa manco che esistono, d'accordo? E che nel silenzio di una vita sacrificata, costante, di preghiera e di mortificazione portano sulle spalle l'umanità, oppure anime tipo Luisa Piccarreta, che se uno studia un pochino di storia della Chiesa, pensate, la venerabile, adesso beata, Alexandria Maria da Costa, tanto per avere qualche fonte ufficiale, la beata, un po' più antica, Anna Caterina Emmerich, i fenomeni che sono tuttora non, come dire, non ribaltanti agli onori degli altari, ma a mio modestissimo avviso, qualcuno, a che piccola cosa, sarebbe bene che la facesse, tipo, non lo so, la Teresa Neumann, la Maria Valtorta italiana, cioè queste sono state anime, sono consumate in una vita di preghiera, di sacrificio, di immobilità sul letto, di sofferenze, con cui hanno tenuto sulle spalle l'umanità intera, d'accordo, e che esisteva Maria Valtorta, per esempio, che non ha avuto fenomeni appariscenti come Teresa Neumann, che aveva visto delle cose, insomma, veramente fuori del comune, o una natuzza evolo, insomma, che era la stessa cosa, però col dono che ci aveva, insomma, sapete, di parlare con le anime del purgato, eccetera, eccetera, era diventato un fenomeno pubblico, però, le cose più grandi, io le ho parlato attraverso queste anime, non attraverso i riflettori, non attraverso le giornate mondiali della gioventù, non sto per dire, anche se è una giornata mondiale della gioventù, mi sono convertito io, cioè, non è che non vanno bene le giornate mondiali, capite il senso, capite? Cioè, l'obiezione dice, ma questa chi è? Luisa Piccarreta, che è una donnetta del metro e sessanta, mezza curva, insignificante, che sta dentro un letto, ma questa sta a fare la rivelazione sul filo al supremo, è, è già, è proprio così, è proprio perché è una donnetta insignificante, che è molto probabile che sia, veramente, la destinataria di queste rivelazioni, perché Dio fa sempre così, capite? cioè, noi dobbiamo capire, noi Dio non lo conosciamo bene, capite? Chi di noi conosce Dio? Io anche quando parlo con quelle persone, dico, vabbè, io spero di essere un uomo di Dio, ma in che senso? Ma io stesso, Dio lo conosco tutti i giorni, cioè, cresco nella conoscenza Dio tutti i giorni, perché? Mica posso dire che io conosco Dio adeguatamente, io fino ad oggi conosco qualcosa, certamente le verità di fede, spero di conoscerle bene, perché quelle, insomma, la Chiesa ce le ha ben formulate, ben proposte, ben definite, cioè, le ho studiate, le ho assimilate, e questo è un discorso. Ma conoscere bene Dio, capire bene quello che fa, ma che non dico, ma stiamo scherzando, stiamo, cioè, ogni giorno uno si affaccia alla vita, vive la preghiera, fa l'adorazione, va a messa, dice il rosario, dice il breviario, riflette, prega, vive, sbaglia a volte, molte volte, e cresce nella conoscenza di Dio, che fondamentalmente, ragazzi, ma chi è che lo conosce così bene? Eh, ben pochi. Ora, Gesù dice, allora, tolte queste obiezioni, perché non è che un'anima, come dire, nascosta e apparentemente insignificante, non è adatta, perché l'anima più nascosta e più apparentemente significante, scusate, me lo dico senza nessuna offesa, è stata la Madonna, d'accordo? E come la Madonna, non c'è stato, non c'è, non ci sarà mai, ma non so che ci sarà nessuno, cioè, ma non, ma non si può neanche stare a parlare, capite? stiamo proprio su un, stiamo su una, ma neanche su una galassia diversa, se fosse possibile, stiamo su un universo diverso, stiamo proprio su un altro, su un altro piano, d'accordo? e le opere grosse fatte da Dio attraverso la Madonna sono state fatte senza nessun riflettore, o a luci fioche, quasi spente, capite? questo è l'incanto di quello che fa Dio, Dio agisce così, ecco, Dio non è da social network, d'accordo? Facciamo questo slogan, anche se oggi chi ha a che fare con Dio è bene che usi i social network perché sono diventati la moderna agora, ecco, qualcuno dice che se San Paolo fosse vissuto oggi non avrebbe fatto il discorso all'Aeropago, avrebbe fatto le caricature su Facebook, dico, vabbè, di forze, vediamo un po', insomma, ecco, torniamo adesso a queste benedette verità, Gesù dice ogni detto verità e manifestazione sul gran sole del divino volere è un miracolo che è uscito dalla mia volontà preservativo di ogni male e che legherà le creature ad un bene infinito, ad una gloria più grande e ad una nuova bellezza tutta divina. quindi vuol dire che già dirle certe cose e il fatto che l'anima è letta per essere lo strumento per farle conoscere le abbia scritte e quindi sottoposte alla nostra attenzione Gesù dice che questo già è un miracolo uscito dalla mia volontà. capite quindi quanto è importante affrontare questa moglie di scritti sono tanti sono 36 volumi sono tanti d'accordo io poi non mi ricordo se qui in questa sede ho già fatto una piccola presentazione credo di sicca insomma faremo ripetita iuvant sono distinti questi scritti in due grandi tronconi i primi dieci volumi rappresentano un po' la preparazione di Luisa al regno della divina volontà e narrano come Gesù l'abbia forgiata preparata in maniera assolutamente mirabile a questo grande dono che poi a un certo punto arrivata intorno ho già detto questo qui ai 46 anni lei ricevette addirittura nella forma come dire del dono divino del dono mistico quindi assolutamente in forma stabile e imperdibile questo significa attraverso il dono mistico quindi la visse in una maniera straordinaria unica e quindi dal volume undicesimo in poi fu qualche cosa di assolutamente straordinario perché si entra nel merito di alcune particolarità che cominceremo a vedere presto di questa rivelazione mentre nei primi dieci volumi chi li legge certamente vede delle cose molto grosse però si è ancora fondamentalmente nella linea dell'ascetica classica tradizionale chiaramente faceva del divino volere la legge assoluta dell'agire cristiano ecco ma non ancora con quelle peculiarità specifiche rivelate poi nel tempo da Gesù a Luisa una volta entrata dentro come pioniera questo regno che prima di lei era stato conosciuto ripeto da Adamo ed Eva prima del peccato originale poi smarrito e poi da Maria Santissima oltre ovviamente che da nostro Signore a Gesù Cristo che in quanto figlio di Dio fatto uomo insomma ne è l'antesignano per antonomasia proseguo la lettura ogni mia verità sul mio eterno volere contiene la potenza e la virtù prodigiosa attenzione più che se si risuscitasse un morto che si risanasse un lebroso che un cieco vedesse che un muto parlasse perché le mie parole sulla santità e potenza del mio fiat attenzione risusciteranno le anime alla loro origine le saneranno dalla lebra che ha prodotto la umana volontà le daranno la vista per vedere i beni del regno della mia volontà perché finora erano come ciechi e daranno loro daranno la parola a tanti muti che mentre sapevano dire tante altre cose solo per la mia volontà erano come tanti muti che non avevano parola io quando rileggo queste cose figlioli miei cari insomma dico subito che potremmo passarci le ore in questa meditazione stupende sono queste frasi che abbiamo sentito che fanno anche capire dove ci stiamo addentrando le mie parole sulla santità e potenza del mio fiat è una cosa meravigliosa risusciteranno le anime alla loro origine cioè attraverso queste rivelazioni noi possiamo e beato chi ci crede ripeto beato chi ci crede tornare a vivere una situazione molto simile a quella propria dei nostri progenitori e questo non soltanto in via straordinaria qualora il signore si degnasse di farci grazie straordinarie che come sappiamo non sono comunque essenziali ma anche in via ordinaria quantomeno nel senso di recuperare un tale rapporto con Dio intimo profondo amorevole personale come dire stretto ecco da fare in modo che non si lascia più la preghiera che si prega con costanza che si prega regolarmente che si prega con diretto che si sta lontano dal peccato come dalla peste bubonica capite cioè i peccati non esistono più nella regno della dinamolontà quando uno c'entra sul serio non ci sono più ecco la più grande come dire la più grande risurrezione alla origine è questo perché prima del peccato originale Adam e Eva non sappiano manco che erano i peccati e viene uno stato di amicizia con Dio unica e loro sì anche straordinaria che è quanto di più bello si possa auspicare e desiderare anche in questo mondo voi sapete che la stragrande maggioranza delle persone specialmente oggi come sono le nostre chiese d'accordo provate a organizzare un evento o una durazione o caristica vedete quante persone ci vengono cioè chi ha il gusto chi ha riscoperto il gusto di stare con Dio chi è che non lo so anche tra quelli che vanno a messa tutti i giorni no ma chi è che ha talmente tanta voglia di andare a messa che è finita la messa e dice ah ci picchia è già finita speriamo che torna presto domani quanti sono che fanno questo ma una persona cioè guardate che qualunque persona normale guardate che noi siamo noi viviamo in un mondo di matti furiosi tutti quanti ma se la messa è quello che è capite cioè se io quando ho fatto la comunione mi ho ricevuto il nostro signore Gesù nel cuore non è un simbolo quello lì è attenzione non è un segno ogni tanto qualcuno sbarella in giro quello è Gesù capito ma è chiaro che se io questo lo vivo dice eh madonna ma io non non lo vivo io sì c'è una delle tante cose ma non fa la comunione sto messo così allora stai messo così stai messo così perché dobbiamo crescere un pochino nel rapporto con Gesù è vero che la devozione il fervore non sempre dipendono da noi però se si ha un bel rapporto con Dio per quanto uno possa passare in un momento che non sta proprio troppo troppo per la quale diceva da qualche parte però non diventa mai come dire un pezzo di 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 proprio ghiaccio oppure uno che fa una cosa per abitudine o con molta indifferenza questo non può essere questo qui d'accordo e se ancora accade vuol dire che siamo ancora molto al di qua non può essere cioè nel rimo della volontà questo non c'è non c'è più capito cioè tu stai male se non puoi andare a me se non puoi fare la comunione tu stai male se non puoi stare un po' da tempo da solo con il nostro signore capito cioè non è un pezzo l'adorazione ma se io so da qualche parte c'è l'adorazione ma io e parto come un matto capito cioè io non posso stare a cuore a cuore davanti al nostro signore Gesù non è che il parroco deve cominciare a dire ah abbiamo facciamo l'ora santa che qualcuno venga che se no siamo in due gatti eccetera eccetera oppure facciamo l'adorazione perpetua non si trova nessuno che ma non esiste capito tornare nella santità delle origini risusciteranno le anime all'origine poi le esaleranno la lebra che ha prodotto l'umana volontà la lebra attenzione la lebra dell'umana volontà qui riusciamo a rappresentarci un attimo un lebroso ecco dato che abbiamo il web vogliamo andare a cliccare su google lebroso poi ci facciamo un segno della croce andiamo a vedere nelle immagini che c'è qualche foto insomma di qualche povero fratello o sorella colpito da questo male ma sapete la lebra che cosa fa cioè la lebra trasforma un essere umano in un mostro d'accordo in un mostro orribile con le orbite di fuori con gli occhi che sono cascati con i sbrandelli di carne che ti cascano a pezzi con i capelli che ti rimangono quattro ciuffi appiccicati insomma tipo ciuffi avete visto come si chiamano quei ciuffetti delle teste d'aglio ti rimane tutto quanto così capite cioè questo è il mostro il mostro che lascia ahimè l'umana volontà lascia sto mostro e e quindi sto mostro orribile puzza poi d'accordo perché i lebrosi puzzano indicibilmente sono veramente qualche cosa di 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 insopportabile non si può stare vicino a un lebroso è impossibile ecco tutto questo è ciò che è prodotto dall'umana volontà orrore ecco la divina volontà tutta questa robaccia la scaccia via come fa l'umana volontà a produrre la lebra voi sapete che la lebra nella tradizione spirituale geografica cattolica soprattutto dei santi padri della chiesa la lebra indica anzitutto il peccato impuro perché il peccato impuro è ciò che deforma l'uomo rendendolo un mostro d'accordo degradandolo e facendo talmente tanto in basso precipitare l'anima del peccatore da mandare un tale lezzo nauseabondo che sale fino al cielo e che fa assolutamente ribrezzo a tutto ciò che è divino la lebra secondo i padri della chiesa è anche il grave peccato dell'eresia cioè di coloro che stravolgono inquinano deturpano alterano le verità di fede ma in generale quindi allebra tutto ciò che la volontà umana produce in quanto distaccantesi da dio e guardate quando si entra in questo mondo divino c'è qualche problema perché un problema è che viene una allergia che non ti fa fare gli starnuti come quella alle graminacee però è un'allergia abbastanza fastidiosa a tutte le espressioni della volontà umana è un'allergia un po' è un po' santa d'accordo perché è un'allergia che si esprime nella forma come dire proprio della compassione nel senso etimologico del termine ma quando si vedono persone veramente piccole ecco quindi proprio mosse anche da piccole cose ecco da veramente da piccinerie di volontà umana quando uno cioè gli si è aperto l'orizzonte di un mondo divino no veramente cascano la braccia per terra cascano cascano la braccia per terra però ti cascano in maniera tale appunto da suscitare una certa compassione da dire poveraccio poveraccia guarda questo come 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 camp cioè che è un po' quello che che capita un po' generalmente quando uno riscopre il nostro signore Gesù Cristo un po' la vita di di fede cioè gli uomini sono chiamati a cose grandi a cose belle non alle quattro cose di questa valle di lacrime d'accordo che sono proprio cose piccole sono fitte proprio brutte meschine povere ecco non trovo i termini d'accordo ecco quindi la divina volontà sana dalla lebra che ha prodotto e che produce la volontà umana quindi questa deturpazione continua d'accordo questo trasformare e trasformarsi continuamente in mostri puzzolenti perché così sono gli esseri umani e attenzione trasformati in mostri ma di per se stessi sarebbero tutti bellissimi noi saremmo tutti bellissimi capite perché le anime Dio le ha fatte tutte stupende siamo noi che le abbiamo deturpate solo noi poi le darò la vista per vedere i beni del regno della mia volontà che finora erano come ciechi ecco San Paolo scrive nelle sue lettere possa egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati ecco perché le conoscenze sono così importanti ma la conoscenza è importante anche nell'ambito della vita di fede che cosa dice San Paolo da dove viene la fede la fede viene dalla predicazione e che significa la predicazione la predicazione significa che qualcuno ti parla di Dio e delle cose della fede che tu non sai e tu ascoltando l'ascoltante ma veramente è così ma veramente eccola ma che bello ma che qua io ho un sacco di persone che continuamente insomma mi scrivono mi dicono i video le cose a destra a sinistra tante cose non le sapevo io ringrazio il Signore non certo per me ma ringrazio anche loro perché hanno usato bene il loro tempo che ci facciamo noi del tempo che abbiamo a disposizione è chiaro che se tu dici occhi per vedere i beni del regno della mia volontà ma se i tuoi occhi stanno sempre incollati davanti alla televisione avete un sacco di scemenze come fai a conoscere i beni del Fiat Supremo capite noi dobbiamo fare molta attenzione perché noi abbiamo soltanto una cosa diceva il buon Gandalf nel Signore degli Anelli c'è soltanto una cosa che entro certi limiti è nostra entro certi limiti cioè il tempo presente cioè noi la grande la grande possibilità che abbiamo è che possiamo scegliere come utilizzare il nostro tempo quantomeno il nostro tempo libero d'accordo questo lo possiamo fare e che fai durante il tempo libero non dico che se uno un giorno si vuole vedere una cosa che si possa vedere in televisione non si debba o non si possa fare non è un discorso genere qua capite ma come lo occupi il tempo cioè se tu la fede non te la formi ma tu ti precludi di vivere una vita da figlio di Dio se tu le verità sul divino volere non le conoscerai tu ti precludi di vivere non solo una vita da figlia di Dio ma una vita divina ancora di più capite non semplicemente un figlio di Dio per adozione ma un tra virgolette un piccolo Dio Gesù era l'espressione piccolo sole gli scritti di Ruisa che è un riflesso ed un'immagine viva del sole divino che è Gesù ma guardate che c'è sta un abisso tra vivere una vita da figlio di Dio e vivere una vita da figlio di Dio da uno che non ha interiorizzato questa cosa è inutile stare a fare discorsi teorici dico ma se uno non è battezzato può andare in paradiso si può salvare non si può salvare queste cose le ha già spiegate la chiesa nella Lumen Gentium però tu dici si potrebbe salvare pure una persona che non è battezzata certamente questo lo dice la chiesa a certe condizioni però anche se se dovesse salvare scusate ma come campa una persona che non ha il dono dell'essere un figlio che è un dono d'accordo non è l'imposizione ma se uno è battezzato comunicato cresimato c'ha la grazia santificante fa parte della chiesa può conoscere tutte le verità della fede c'ha tutti i mezzi di salvezza c'ha tutto quello che Gesù poteva dare c'ha l'eucaristia c'ha la madonna c'ha i santi c'ha tutto è chiaro che c'ha un patrimonio immenso che se lo usa ma vive diversamente da chi quel patrimonio non ce l'ha non si tratta di fare una discriminazione o di dire io sono meglio e tu sei peggio ma è così capite non è la stessa cosa averci Gesù nel cuore oppure no non lo è ma questo lo sa chi lo ha vissuto cioè io nel mio piccolo l'ho imparato a vivere perché la prima parte della mia vita insomma era vissuto con una fede un po' così e la seconda parte della mia vita è stata vissuta con una fede un po' colà la sicuro insomma che la differenza è notevole e più come dire si cresce quello che dicevo nessuno di noi può pretendere di essere arrivato o di conoscere perfettamente il Signore se tu vai continuamente camminando continuamente cercando di fare qualche passetto avanti le cose vanno sempre meglio perché è sempre meglio perché con Dio le cose vanno sempre meglio capite quindi se tu ti metti devi leggere 36 volumi provatanti quanto tempo ci vorrà a leggere 36 volumi del Libro del Cielo è un bel po' capite però tu fino adesso quanti anni c'hai tu come stai ascoltando 40 50 anni io mi sono letto un sacco di robe riguardo in Cielo la verità cioè veramente uno per esempio il Libro del Cielo 36 volumi abbiamo citato prima Maria Valtorta l'opera di Maria Valtorta sui Vangeli 10 volumi 5000 pagine abundanti sono tanti quindi vuol dire che chi fa una cosa del genere dedica tanto tempo al Signore però poi che cose porta dietro sicuramente chi tutto quel tempo non gliela ha dedicato quelle cose dietro non se le porta punto 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 chi adesso sta con la radio accesa o sta connesso su Facebook o si sentirà nel secondo momento questa catechesi adesso a prescindere da chi parla da quello che dice d'accordo questa è una catechesi diciamo così sacra d'accordo allora vuol dire che io sto dando un'ora del mio tempo a chi? al Signore perché non sto state mica dando un'ora del tempo a Don Leonardo non serve a niente non serve a nostro Signore è chiaro che se tu vieni arricchito da questo te lo porti a casa è un regalo che fai te stesso capito? non lo fai a lui è lui che sta vogliono un regalo a te e tu lo accogli ancora darà la parola a tanti muti che mentre sapevano dire tante altre cose solo per la mia volontà erano come tanti muti che non avevano parola voi sapete che io ho sempre un pochettino la sindrome del sacerdote che sta sempre a fare le prediche quindi mi dovete un pochino perdonare ed è bene ogni tanto scherzare anche un po' su se stessi allora voi sapete che c'è un proverbio che dice dimmi quello che fai e ti dirò che sei ma ti dico anche dimmi di quello che parli e ti dirò che sei di che parli tu? di che cosa parliamo? adesso non hai idea che nessuno si mette in giro a fare come fanno i rappresentanti delle sette un po' estremiste degli Stati Uniti che vanno a pia di petto le persone si mettono a fare predicatori col megafono in giro a destra a sinistra che queste sono cose un po' da pazzarielli no? quindi nessuno deve fare queste cose qui no? però per esempio noi gli amici ce li scegliamo giusto? gli amici ce li scegliamo e di che cosa parliamo con gli amici? di che parliamo? parliamo della Roma parliamo del Milan parliamo della Juventus parliamo di che parliamo? parliamo di politica parliamo di moda parliamo di donne parliamo di schifezze di che parli? capite? quello di cui noi parliamo dice molto di quello che noi che noi siamo no? la conversazione ecco c'era un bel film non voglio fare pubblicità ecco un film molto molto bello molto molto spirituale che era l'ultimo samurai dove si vedeva questo grande samurai quest'uomo spirituale a modo suo perché comunque questa gente aveva un codice di vita veramente non dico mistico ma spirituale grandissima disciplina grandissima meditazione grandissimo autocontrollo no? e si ritrova questo corrotto capitano americano che viene imprigionato grezzo d'accordo nei confronti della raffinatezza spirituale di questi e proprio il samurai che cerca di mettere un pochettino di ponti no? con quest'uomo perché da buon uomo come dire spirituale voleva conoscere un'altra cultura diceva ma voi come dice e cominciavano a parlare e alla fine abbiamo fatto una buona conversazione cioè fare un po' di buone conversazioni specialmente con i nostri amici capite? perché purtroppo i colleghi di lavoro non ce li scegliamo non ho accorto i parenti non ce li scegliamo però almeno gli amici ce li scegliamo insomma no? e dicono i libri sapienziali come uno è tale sarà il suo amico allora chi sono i nostri amici? capite? e di cosa parliamo con i nostri amici? ma lo facciamo come Santa sapete San Benedetto è Santa Scolastica ecco che passavano le notti che Santa Scolastica faceva trasgrediva i codici che andava a trovare San Benedetto proprio che aveva nostro Signore che facesse venire il diluio universale così passavano tutta la notte a parlare di Dio insomma non occorre tutto questo grandissimo fervore insomma però qualcosa no? ecco continua la lettura e poi il gran miracolo di poter dare una volontà divina a ciascuna creatura che contiene tutti i beni ma che cosa non le darà quando si troverà in possesso dei figli del regno suo ecco perciò ti tengo tutto occupato nel lavoro di questo mio regno e c'è molto da fare per preparare il gran miracolo che il regno del Fiat sia posseduto conosciuto e posseduto perciò sia attenta a valicare il mare interminabile della mia volontà finché venga stabilito l'ordine tra creatore e creatura e così potrò fare il gran miracolo per mezzo tuo che l'uomo mi ritorna nella sua origine e d'onde ne uscì a commento di quest'ultima pericope volevo dire solo una cosa no? così entriamo un po' meglio in che cos'è questa divina volontà e poi il gran miracolo di poter dare una volontà divina a ciascuna creatura che contiene tutti i beni fermiamoci apriamo gli occhi e le orecchie proviamo a fare una piccola contemplazione volontà divina uguale ciò che contiene tutti i beni avere il dono di poter vivere uniti alla divina volontà questo ricordiamolo bene vuol dire poter beneficiare certamente in forma partecipata di tutti i beni che Dio ha di tutti i tipi tutti comincia a passare e rassegna tutti quanti i beni che tu conosci materiali fisici morali spirituali tutti e sappi che se tu sei unito alla divina volontà li avrai tutti a meno che quella stessa divina volontà per il tuo bene per te non voglia privartene di qualcuno ok la salute come dire una certa cominciamo dai più bassi prosperità economica la serenità interiore il dominio di te stesso il controllo delle passioni lo stare lontano dal peccato la gioia profonda del cuore il sentirti amato da Dio l'avevo un rapporto bello con lui l'essere capace di amare il prossimo chiunque esso sia di compatirlo quando è peccatore di avere delle buone amicizie di perdonare il male continua pensa tutte le cose belle che potrebbero succedere ci sono tutte ci sono queste qua tutte quante nessuna escluse e se tu vivi e ti senti lontano da questa piccola come dire rassegna di cose molto esemplificativo è perché stai lontano dal divino volere punto cioè quanto meno tu hai questi beni tanto più di fatto non perché sei cattivo eh d'accordo perché a volte non stiamo lontani dalla divina volontà senza saperlo d'accordo però quanto meno di questi beni hai tanto più lontano dal divino volere stai la rima è casuale d'accordo non è non è non è voluta ma questa è una come dire è una corrispondenza bionifica bionifica è direttamente proporzionale capite perché se uno sta in Dio ha i suoi beni capito cioè ricordate ancora abbiamo detto la volta scorsa la divina volontà è amore l'amore tende ad una unione sponsale lo vedremo cioè Luisa ha vissuto ma molti anni prima tra l'altro di avere il dono della divina volontà cioè un matrimonio mistico con Gesù che io non l'avevo mai visto da nessuna parte insomma sicuramente è per la mia ignoranza insomma per le cose ma è una cosa stupendissima cioè e quello che traspare è una certamente questo non vuol dire cioè quasi nessuna anima è stata tanto precipissa quanto questa povera anima quindi sgombriamo subito perché attenzione che dopo il peccato la croce è sempre la prima dote che Gesù fa a quelli che vivono nella divina volontà quindi nessuno si mette a pensare che dice ah che bello avrò tutti quanti i beni e quindi le croci le lasciamo tutti quanti agli altri e per me è tutta quanta rosa e fiori su questa terra no c'è il paradiso terrestre con la croce quindi questo ricordiamolo sempre questo qui anzi la croce è diventata un bene preziosissimo d'accordo ecco quindi attenzione eh però come stanno cioè come stanno in croce queste anime qua queste anime stanno in croce felici queste anime stanno in croce felici felici perché la felicità non deriva dall'assenza di dolori d'accordo o di sofferenze ma deriva dall'unione con la divina volontà quindi se la divina volontà in questo momento vuole che tu soffra una certa croce e tu hai imparato a vivere nella divina volontà e la vivi in fusione con lei ma tu sei felice ecco perché così si capisce delle cose insomma che per noi che siamo ancora molto intaccati dall'umana volontà non ci capiamo niente ma com'è possibile che Gesù Crocifisso era felice con quello che stava passando non è possibilissimo Gesù Crocifisso non stava godendo piaceri fisici d'accordo e neanche morali ecco ma nella punta dello spirito così lo chiamano i maestri di spirito ma come non era Gesù stava facendo al massimo possibile la volontà del paese stava redimendo l'umanità stava compiendo ciò per cui era venuto al mondo capite e la gioia il tasso della nostra gioia ricordiamo deriva soltanto dalla uniformità dalla consonanza della nostra vita con la divina volontà attenzione anche qui il tasso della nostra gioia non vuol dire assenza di lacrime totale anche qui invito gli iscritti sono fonte di conoscenza cioè Luisa racconta che una volta che poi si era abituata se per due o tre giorni Gesù non si faceva vedere lei moriva interiormente bisogna leggere gli iscritti moriva interiormente però aveva imparato a stare che se due o tre giorni Gesù non si fa vedere due o tre giorni non si è fatto vedere e questa è la sua volontà è evidente però che questa è una croce d'accordo per una persona che ha avuto quel dono è una croce grossa però questa non toglie la gioia anche se molto si soffre quindi il dono della divina volontà ancora è non è altro che espressione di questo traboccante amore di Dio cioè ci riporta sempre perché Dio ha creato l'uomo Dio ha creato l'uomo semplicemente per renderlo partecipe della sua stessa felicità Dio non aveva nessun bisogno di creare niente nessuno Dio è perfettamente bastante a se stesso questa è dottrina anche della chiesa non si trova soltanto negli iscritti ma volendo dice che perdonatemi adesso per farci capire che ci faccio con tutti sti beni che ho io e che me li sto godendo da solo facciamoli pure a qualcun altro d'accordo solo che questo qualcun altro per goderne deve essere simile a noi quindi deve avere l'intelligenza la volontà e la memoria per poterli apprezzare e vivere d'accordo ecco perché gli esseri privi di ragione godono delle perfezioni molto limitate che Dio gli ha dato no non di quello per cui siamo stati fatti noi e quindi è grato gli angeli di uomini solo per questo e poi alcuni angeli folli si siano impazziti e abbiano sputato sopra i doni che Dio gli voleva fare questo è un problema loro non è un problema di Dio così come che gli uomini folli d'accordo perché è vero dice ma sì ma chi le sapeva tutte quante queste cose e attenzione chi le sapeva torniamo al discorso di prima tu che ne fai del tempo cioè io dico adesso tra poco arriva il mese di novembre no la chiesa nella sua sapienza ci aiuta ci soccorre no perché c'è un mese dedicato ai morti mica perché uno vuole fare il macabro vuole andare al giro al cimitero a portare tre fiori su una tomba ma che c'è fa il morto con quei fiori capito è un mese in cui la chiesa dice figlio mio tatta attento tu non sei un animale d'accordo gli animali non non sono autocoscienti di essere vivi gli animali sono vivi d'accordo e si godono la vita senza sapere di averla ma non sono consapevoli del fatto che la vita un giorno finirà un bel giorno arriverà la morte e è finito tutto quanto cioè non è che se un cagnolino gira per strada vedi il cadavero di un altro cagnolino dice è morto quest'altro cagnolino se è morto lui pazza che moro pure io fammi un po' pensare il cane se vede il cadavere di un altro cagnolino lo annusa e per lui non è niente non è capite io che sono essere umano se vedo la salma di mia madre che si è morta dico mamma è morta cioè qui io non la vedrò mai più ok e stasera domani tra dieci anni tra vent'anni tra tent'anni in quella bella tomba dove l'abbiamo sigillata un giorno ci starò sigillato pure io e io non posso non posso non posso non posso scusate se lo dico non posso perché sei scemo figo mio non posso dire attenzione mi voglio un po' informare che succede quando uno muore che succede oppure posso campare con le illusioni e dire sì ma quando uno muore andremo in un mondo più bello e staremo tutti felici e contenti ma sei sicuro tu così in auto ma chi te l'ha detto e tu dici parli tu che sei in prete dico no certo che parlo io che sono in prete perché le verità che noi sappiamo su quello che c'è dopo la morte non sono mica favole non sono mica campati in aria così ci hanno molte buone ragioni a suffrangio la fede non è per gli stupidi attenzione non è che noi andiamo dietro scrivendo a San Pietro alle favole il primo prete che si sveglia la mattina dice lo sai che esiste in paradiso ci andiamo tutti quanti no no allora noi dobbiamo fare attenzione dobbiamo fare attenzione che ci fai tu del tempo che Dio ti ha messo a disposizione se tu scegli che sta tutto il giorno a vedere le serie tv e i film polizieschi o telegiornali o la stata rimbambia ha preso un sacco di cose oppure poi esci vai a giocare a tennis vai a giocare a biliardo che non so che non lo so d'accordo tutte quante cose che di per se stesso è molto peggio se uno va a night a luci rosse o a fare una strage o a spacciare la droga cioè le cose che ho detto prima che è una serie tv che è una partita a tennis non me la posso fare che è una partita a biliardo non me la posso fare si può fare tutto si può fare capito però il problema è che noi abbiamo il timer capito cioè la giornata è breve il tempo è limitato dobbiamo lavorare dobbiamo dormire dobbiamo mangiare non è che ci resta tutto sto gran tempo e che ci fai col tempo che c'è a disposizione e questa è la nostra scelta questo è il nostro essere buono allora adesso la prossima volta terminiamo ancora questo che sto scritto pensavo di terminarlo oggi ma abbiamo terminato però il senso di queste catechesi appunto era una presentazione queste catechesi non è che ti daranno il dono della divina volontà ti cercheranno di illustrare che cos'era divina volontà in se stesso l'abbiamo visto il fiat creante il fiat redimente e adesso come si entra e come si viene nel regno della divina volontà dopodiché sei tu perché non ti basteranno queste cose devi prendere 36 volumi e piano piano con calma pregandoci sopra utilizzando anche tutti gli ausili che ci stanno io sto facendo le meditazioni c'è Frappio Maria Ciampi c'è Don Pablo Martin c'è Don Massimo come si chiama Don Massimo Pelliconi che adesso sta facendo un sacco di belle meditazioni c'è Padre Kevin tutto quello che prepara tra tutto quanto è in giro però sicuramente ci devi dedicare del tempo d'accordo perché questo non è un fumetto capito che lo legge e poi è finito qui c'è un programma di vita un programma di vita meraviglioso che poi richiede anche come dire un'attenzione un lavoro di uturno costante un investimento quindi non è che tu ti metti una settimana a fare qualche atto come vedremo e è finito il discorso assolutamente d'accordo è un continuo che chiede un investimento è un investimento che ti darà una vita sicuro questo qui è felice qui e grandemente beata in cielo se tu ci credi bene se non ci credi meno bene se ci dedicherai e ci investirai del tempo ne trarai dei frutti se il tempo non ce lo investi e non ce lo dedichi come in tutte le cose umane e anche nelle cose della fede le cose automatiche non esistono Dio i miracoli li fa quando è necessario nelle altre cose ci viene incontro ci istruisce ci abilita e poi chiede che noi facciamo la nostra parte in questo come in tutte le altre cose beh detto questo vi do appuntamento se credi alla prossima settimana con la mia benedizione Ave Maria Grazie a tutti